Mnoghi oni su veci reglutuani ottišli na strana ratišta u Siriu, Irak i drugi miestima. Gli estremisti che sono partiti per la Siria e l'Iraq derivano dai radicali islamici venuti qui a combattere la guerra di venti anni fa, sostiene il ministro dell'interno della Repubblica Serba della Bosnia-Herzegovina, Dragan Lukács. Vivono in enclave separate dove non riconoscono le leggi dello Stato e usano queste enclave come centri di reclutamento per inviare volontari in zone di combattimento all'estero. In qualsiasi momento possono rappresentare una minaccia per la Bosnia-Herzegovina e l'Europa, compresa l'Italia. Abbiamo determinate informazioni su possibili minacce per la visita del Papa. Ci sono commenti online sul fatto che non ha nulla a che fare con Sarajevo, rivela il ministro, convinto però che la polizia bosniaca garantirà la massima sicurezza alla visita. Secondo Lukács, al momento sono circa 350 combattenti bosniaci in Siria e su altri fronti, oltre a diverse migliaia di sostenitori dell'Islam radicale in Bosnia, e pensa che stiano aumentando di giorno in giorno.